Ciao, sono Ivana e ho 53 anni. Sono venuta qui da Roberta per seguire questo nuovo stile di vita perché mi sentivo ormai affaticata dal mio peso. Cioè la spinta è stata proprio quella per la salute. Diciamo sette mesi fa, otto mesi fa, fare le scale mi pesava, andare a fare attività fisica ormai era diventato un tabù perché c'era questo peso in più. La cosa che ha proprio fatto scattare la scintilla è stata la settimana bianca dell'altro inverno dove facevo due discese e non riuscivo più a gestire il mio corpo. Oppure a casa per vestirmi e legarmi i lacci delle scarpe cioè lo facevo perché non è che non lo facevo però mi sentivo ormai impacciata e affaticata. E quindi tutto è partito da questa cosa. Io conoscevo questo centro tramite mia sorella perché già era venuta lei a fare questo percorso e ho detto, dico va bene, facciamo questo investimento sulla persona e sulla salute. Sono venuta qui e poi tutto è partito. È partito con un'accoglienza eccezionale, professionisti sia sotto l'aspetto clinico che sotto l'aspetto psicologico perché è un percorso molto molto importante per una donna specialmente a quest'età perché ti trovi davanti una svolta, la svolta di dire cosa voglio fare, voglio curare la persona perché poi c'è quel lasso di tempo che dedichi alla famiglia, dedichi al lavoro, dedichi a tutte queste altre cose e trascurite come persona purtroppo. E qui ho trovato l'aiuto, l'aiuto di tutti e abbiamo iniziato a seguire un regime alimentare diverso perché diciamo forse mangiavo pure meno prima però mangiavo male, saltavo i pasti, mangiavo sempre le stesse cose e invece con loro mi hanno dato proprio uno schema, uno schema piacevole, uno schema che sì di restrizione perché specialmente all'inizio non è che uno dimagrisce così perché viene qui e basta però questo schema è entrato dentro di me, il percorso è stato, ci sono stati anche dei momenti difficili però il venire qui, venire due volte a settimana e avere un rapporto di fiducia non mi ha fatto mollare perché forse con un nutrizionista classico e lo vedi una volta al mese, ti pesi, ah non sono riuscita e molli invece qui ci sono loro che ti danno la carica proprio per non mollare perché poi se fai le cose come vanno fatte, cioè nel senso uno non è che si mente a se stessa loro sono persone che hanno esperienza e quindi ti dicono prova così, prova con l'atti, modificano qualcosina e poi riparte tutto e quindi riparte tutto, l'entusiasmo e l'altro scoglio che metteva paura era il mantenimento perché diciamo che io a settembre, io ho iniziato a Pasqua dell'altro anno a settembre ero già contenta perché non avevo più questo stato di affaticamento e da lì ho iniziato anche a piacermi perché che cosa succedeva prima? un po' un alibi, io non uso la bilancia io tanto vedo con le cose da vestire se sono aumentata o diminuita il buco della cinta e quindi era un alibi per non sapere quanto era il mio peso infatti quando sono venuta qui la prima volta che mi hanno pesato ho detto ah, sapevo che ero oltre però non pensavo mai di pesare 77 kg e adesso sono arrivata a 61 kg e la cosa più bella è che il mantenimento mi sta gratificando perché adesso è un qualcosa proprio che è una mia coccola il mantenimento cosa prima dovevo raggiungere un obiettivo adesso invece è venire qui e coccolarmi e dà tanta soddisfazione a una persona, cioè a me stessa proprio dà soddisfazione poi da lì è normale che è scaturito ah che bello mi rimetto questo vestito che non mettevo più da tanto tempo quello è normale e poi anche la parte estetica subentra però ecco sotto l'aspetto della salute non ho più i dolori non ho più il dolore alle anche anche perché questo è un momento delicato la menopausa per una donna, i cambiamenti ormonali e invece mi sta facendo affrontare questa cosa con uno spirito completamente diverso poi vabbè Roberta e Camilla sono fantastiche ma anche tutto il personale qui presente è altamente qualificato posso dire che una delle ragazze, tutte molto brave una delle ragazze la chiamo il mio Michelangelo perché è colui che mi ha anche scolpito perché la perdita di peso da Nardi non è la perdita di peso classica ma è distribuita su tutto il corpo quindi una donna non si trova svuotata nel seno svuotata nelle parti che casomai fanno più la parte femminile ma è proporzionato e quindi questo pure è un'altra gioia grande che ho in me stessa e quella è l'altra cosa molto bella è che io ho cambiato completamente stile di vita cioè sono entrata in un sistema diverso a me piace mangiare così perché comunque è un'alimentazione molto varia e poi alla fine all'inizio avevo molta paura quando esco con gli amici come faccio? loro mangiano quello? e loro danno tutti i trucchettini mangiati questa cosa quindi anche la socialità non va persa cioè rimaniamo sempre in un mondo tranquillamente cioè non è che diciamo ora mi chiudo dentro casa perché devo fare la dieta questa è un'altra cosa vincente dico ora che capita a volte casomai mangio quel qualcosina di diverso perché la pizza, la sera, queste cose cioè non è che non le possiamo più mangiare però se io vado ad abusare il mio corpo cioè non gli interessa io ho passato le vacanze di Natale dico oddio mio ma ora il mantenimento mi devo preparare invece era spontaneo cioè se anche mangiavo una cosina al di fuori di quello che è la mia routine un pezzettino ero soddisfatta non avevo bisogno di mangiare mangiare forse come era prima quindi anche questo penso che sia proprio merito di questo stile